Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. L'Istat ha presentato la nona edizione del rapporto sul benessere eco e sostenibile. Il volume fornisce un quadro complessivo dei 12 elementi in cui è articolato il benessere analizzati nella loro evoluzione nel corso dei due anni di pandemia, esaminando le differenze tra i vari gruppi di popolazione e tra i territori. Sono tanti e gravi i problemi fotografati nella nostra regione in molti settori e i divari con il resto del paese restano ancora molto ampi. Il tasso di occupazione ad esempio si attesta al 45%, solo la Sicilia si è ammessa peggio, 44,5%, mentre il dato nazionale sfiora il 63% e quello del mezzogiorno è rilevato al 48,5%. Altissimo, sempre nella nostra regione, il tasso di mancata partecipazione al mondo del lavoro, mentre risulta bassa la percentuale di trasformazione di contratti da instabili a stabili. La campania è in coda anche per soddisfazione del lavoro svolto. Per quanto riguarda poi il capitolo scuola, almeno il 15,6% di bambini tra i 0 e i 2 anni sono iscritti all'asilo nido. Sempre la campania vanta poi il record negativo di passaggi dalle superiori all'università ed è penultima per competenze digitali della popolazione. Ma il capitolo che preoccupa di più è quello che riguarda la salute. La campania infatti compare ancora all'ultimo posto per speranza di vita alla nascita, con 80,6 anni, 7,2 mesi in meno rispetto alla media di tutto il sud e delle isole. Un dato che è anche una conseguenza diretta degli altri record negativo della regione, tra i quali si riscontra il più alto tasso di mortalità evitabile, ovvero tutti quei decessi che si potrebbero prevenire con un'assistenza sanitaria tempestiva ed efficace, oltre che quelli legati a stili di vita salutari e a fattori di rischio ambientale. La campania occupa inoltre il sesto posto per mortalità infantile, il terzo per percentuale di anziani affetti da patologie croniche fortemente limitanti e il primo per decessi dovuti a tumori in età compresa tra i 20 e i 64 anni. Altro tasso dolente è la qualità della vita. I cittadini campani sono terzultimi per quanto riguarda l'aspettativa del numero di anni da vivere senza limitazioni a causa di problemi di salute per i 65 anni. Nuova operazione dei carabinieri di Napoli nei confronti dei cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Camorristi e parenti, parcheggiatori abusivi e altre persone che non avevano diritto a percepire l'assegno con l'aiuto dello Stato per le persone in difficoltà economiche, 6 i milioni di euro di sussidio percepiti indebitamente. Dalle verifiche effettuate dai militari in collaborazione con l'Inps sono emerse 651 posizioni irregolari. Sono state denunciate di conseguenza 553 persone per truffa ai danni dello Stato. Al setaccio sono passate le richieste di reddito avanzate tra Napoli e provincia da 1.167 nuclei familiari per un totale di 2.300 persone. Solo nel comune di Marano sarebbe stato elargito più di un terzo della somma a persone che non ne avevano il diritto. In questo caso 125 i denunciati. A Pozzuoli 12 parcheggiatori abusivi sono stati denunciati perché percettori senza averne il diritto. Uno di loro aveva 12.000 euro sul libretto postale. Tra le persone a cui è stato revocato il sussidio c'è anche la figlia di un uomo ritenuto coinvolto nell'omicidio del giornalista napoletano Giancarlo Siani. La donna aveva percepito una cifra superiore agli 8.500 euro. Poi i carabinieri le hanno revocato la domanda. Una convenzione per gli imprenditori del comparto artigiano di Sorrento per rilanciare un'antica tradizione che rappresenta un pezzo importante dell'economia della nostra comunità. E' questo l'ultimo accordo sottoscritto dalla Banca di Credito Cooperativo di Napoli che segue una politica di sostegno alle filiere delle attività storiche e imprenditoriali del nostro territorio. Dopo la nautica, il settore vitivinicolo, gli artigiani di San Gregorio Armino, è così glata una convenzione con gli artigiani intarsiatori sorrentini. A parlarcene il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo. Stendiamo una mano agli artigiani di Sorrento, gli intarsiatori, il settore chiaramente turistico. Tutto il mondo che oggi è messo a dura prova dopo due anni difficilissimi di lockdown, oggi abbiamo addirittura un conflitto mondiale che impedisce ai turisti di arrivare nella penisola sorrentina. I voli sono bloccati per cui il loro fatturato è limitato, ma noi con questa iniziativa tenderemo a finanziare sia il circolante sia gli investimenti, finanziamenti a tassi schiacciati nonostante questa naturalmente impennata dei tassi e quindi un nuovo modo di sostenere anche chi è in difficoltà in chiave energetica o per l'acquisto delle materie prime. L'accordo con la BCC Napoli punta a valorizzare il settore e sostenere l'intero comparto. È stato previsto un plafond di diversi milioni di euro per l'acquisto di mobili, macchinari, la ristrutturazione dei locali e la liquidità per gli artigiani e i commercianti del settore, con finanziamenti senza garanzie reali della durata di 120 mesi a tasso agevolato. La BCC Napoli, da sempre vicina al territorio, offre inoltre alle piccole imprese con un fatturato, fino a 200.000 euro e con massimo di tre dipendenti, l'opportunità di fronteggiare l'attuale congiuntura economica attraverso il ricorso a un valido strumento finanziario dedicato con un finanziamento a medio-lungo termine, fino a 30.000 euro, soddisfatti i firmatari dell'accordo. Siamo convinti che ne beneficerà tutto il turismo perché l'artigianato è identità per la penisola sorrentina e speriamo che subito dopo allarghiamo, allargheremo questo tipo di rapporto anche a altri settori merciologici della penisola. Speriamo che sia una porta sempre aperta alla quale noi vogliamo dare tutto il nostro contributo, sia umano, sia economico, sia di qualità soprattutto. Le nuove vie dell'energia e l'impatto sul Mediterraneo sono i temi al centro del convegno organizzato dall'European Workshop di Sorrento che mira a riportare il Sud al centro del dibattito economico, sociale e culturale nel rappresentare le grandi opportunità che da questa sponda del mare Nostrum possono arrivare per il rilancio del nostro paese. Il Mezzogiorno oggi è una grande piattaforma al centro del Mediterraneo e rappresenta una grande opportunità di crescita soprattutto in un momento così delicato, con una guerra che sta imperversando nella zona est di Europa. Sull'argomento è intervenuto il presidente dello Svimez, Adriano Giannola. Da vent'anni il Mediterraneo è la nostra prospettiva, lì dobbiamo orientarci sia dal punto di vista delle risorse energetiche necessariamente che dobbiamo utilizzare ancora per almeno 10-15 anni in attesa che arrivi questo mitico idrogeno, il nucleare che non sarà mai pulito. Quindi in qualche modo con realismo oggi capiamo che abbiamo di fronte quello che dobbiamo fare da più di 20 anni con enorme ritardo, con grandissime responsabilità di chi questo ritardo ha determinato e che oggi sta governando, cavalcando l'esigenza di recuperare il ritardo. Da un lato il PNRR e dall'altro la ridefinizione del nuovo equilibrio geopolitico che vede al centro non più l'Eurabbia ma l'Africa, così il giornalista Claudio Brachino. L'Africa c'è una grande attenzione, basta sentire per esempio le grandi associazioni anche della Confindustria, sono paesi in via di sviluppo potente con grandi investimenti, c'è una grande attenzione tecnologica, ci sono questi cavi sottomarini che passano sotto in cui per esempio le grandi organizzazioni anche tecnologiche europee, americane e anche italiane sfidano quelle cinesi perché le comunicazioni e le informazioni passeranno sotto il mare intorno al continente africano arrivando direttamente in Europa. Quindi inevitabilmente comunque al di là ora del discorso malizioso sulla volontarietà o meno l'Africa torna centrale. Passaggio obbligato della discussione sul capitale umano, una risorsa inestimabile del Sud che va formata e fidelizzata. Il presidente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale Michele Pizzo spiega perché. Se le imprese non vengono percepite come degli attori dello sviluppo e del passaggio e devono subire ostracismo, difficoltà da parte delle amministrazioni locali nei loro processi di sviluppo cambierà ben poco. In occasione della giornata mondiale del libro sarà esposto eccezionalmente dal 23 aprile nella sala 14 dell'appartamento storico del Palazzo Reale di Napoli, uno dei due leggi rotanti che appartengono alla collezione della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. L'esemplare è stato per l'occasione restaurato e rappresenta una vera e propria innovazione settecentesca, assai di moda, voluta dalla regina Maria Carolina d'Asburgo. Si tratta di una macchina da lettura, di gusto neoclassico che richiama gli ingegnosi leggii diffusi già in epoca medievale e in particolare nelle biblioteche monastiche dell'Europa centrale. La regina Maria Carolina fece costruire la copia di preziosi mobili di lettura nel 1792-1794 da Giovanni Uldrich, un noto ebanista attivo a Napoli. A parlarci dell'iniziativa Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli. L'abbiamo restaurato proprio perché volevamo far capire meglio il funzionamento, che non era chiaro ai visitatori. All'oggetto è appartenuto come un suo gemello, un altro mobile pressoché identico a Maria Carolina d'Austria che lo teneva a Caserta dove era la sua biblioteca. Poi nell'Ottocento con l'unità d'Italia è finita la biblioteca nazionale, infatti tutti e due appartengono al patrimonio della biblioteca. Questo è esposto nel percorso di visita di Palazzo Reale e quindi abbiamo approfittato dell'occasione della giornata internazionale del libro che è domani per fare questo restauro soprattutto finalizzato a farne capire il funzionamento. Quindi smontaggio dei piani che potevano ruotare e quindi i nostri restauratori del laboratorio di restauro hanno rimesso in sesto i piani, pulito il legno e le parti metalliche per far vedere questo funzionamento che consentiva appunto una lettura alternata di più libri contemporaneamente. La Biblioteca Nazionale di Napoli oggi conserva la biblioteca privata di Maria Carolina insieme ad alcuni preziosi mobili della biblioteca e documenta attraverso le sue collezioni l'ambiente culturale dell'epoca che vide costruirsi intorno alla regina un gruppo di donne e uomini di idee moderne ed avanzate, espressione della grande cultura europea di quel tempo. Così Lucia Marinelli, vice direttrice della Biblioteca Vittorio Emanuele III. Possediamo 8.000 volumi appartenuti sicuramente a Maria Carolina, riconoscibili dal tipo di copertina che ancora oggi conservano, che è una copertina in cartone azzurrino che veniva messa prima che venissero mandati direttamente dall'Austria alla regina che amava la letteratura del suo paese. Lei era austriaca, arrivata a Napoli a 16 anni con il matrimonio con Ferdinando IV ma è stata legatissima alla propria cultura e quindi faceva in modo che arrivassero tutte le novità editoriali del suo paese a Napoli. Era una giovane donna, quindi leggeva del fine Settecento, inizio Ottocento leggeva essenzialmente letteratura narrativa, quindi romanzi più o meno diciamo ovviamente legati alla cultura dell'epoca, quindi pre-romantica ma anche era una donna colta in generale, leggeva molta saggistica, addirittura strategia e politica perché aveva anche un suo interesse diciamo alla vita politica. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci! Grazie!